Naturalmente devo presentarvi colei che è l'artefice dell'oggecchino d'oro, eccola qua, Mariele, Mariele, tu lupo, vai da quel signore là che ti deve dare una cosa per Mariele, è un riconoscimento di un settimanale, ecco, il telegatto a Mariele per l'opera di Bene, sorridi, non essere lupo a chiotto. Questo è per la signorina Mariele. E perché? Perché direi che se lo merita, con tutta la fatica che le fate fare. Allora, per...